Benvenuti a questo speciale della nostra cronaca retina che vedete un po' diciamo in versione natalizia, del resto ci avviciniamo appunto al Natale. Allora abbiamo scelto e la ringraziamo per questo insomma di essere qua con noi, di ospitare la dottoressa Gabriella Rossi, presidente di Tecla Onlus perché insomma ci sembrava giusto e bello parlare dei tanti progetti insomma che lei con la sua associazione ha fatto e penso farà anche con il vostro aiuto, quindi diciamolo fin da subito, lo sappiamo che nel periodo natalizio sono tutti lì a chiedere, ma insomma noi qui chiediamo per un buon motivo e soprattutto ecco c'è un referente territoriale di questa associazione, io credo che questa sia una garanzia molto importante nei confronti di chi poi va a donare. Piero Franchini? Da noi è importante dire che va bene anche dopo Natale. Ah sì, ma infatti noi accettiamo anche per tutto il vero dell'anno. Parecchi chiedono a Natale, per noi va bene anche. Piero una terra che a te è molto cara, quella del Madagascar che insomma spesso e volentieri quando ne parliamo ti commuovi, ma del resto è normale che sia così. Ho passato 14 mesi là, quindi sì. Ecco, è una terra assolutamente ancora davvero martoriata, no Gabriella? Insomma da tanti flagelli, non ultimo addirittura una recrudescenza della peste. Però io vorrei iniziare da, insomma, tu vieni da un viaggio, no? Sì, sono tornata alla fine di novembre. Ecco, che cosa lascia un viaggio in Madagascar nell'animo di chi si impegna per questi progetti? Io credo che mi ha lasciato tanto questo viaggio perché sono andata proprio nel sud del Madagascar dove la povertà, i livelli di povertà sono veramente importanti. Nella prima missione dove sono stata, sono stata dalle suore dove non avevano acqua e dove c'era un po' di luce col generatore. Per cui vivere una settimana senza potermi lavare è stata una cosa un pochino faticosa. Infatti quando sono tornata subito mi sono ammalata, ma credo che perché le emozioni, le sensazioni sono state tante. E vedere la povertà e vedere che ancora siamo nel 2018, perché siamo nel 2018, e che i ragazzi ancora vivono per un piatto di riso. Io ho visto mangiare costantemente colazione, pranzo e cena, riso. Riso bianco e forse con qualcosa di verdura. Per cui è una tristezza che ti mette dentro l'anima. È vero che sono sereni, che la maggior parte nei villaggi non sanno che il mondo è diverso, però è una tristezza assoluta che ti entra dentro l'anima e in qualche modo secondo me me l'ha sopportata da rezzo. Sì, questo è un qualcosa che era tangibile già dai primi momenti in cui ti eri impegnata, se non ricordo male, in questa associazione. Che sono quanti anni ora? La Tecla Onlus è nata nel 2010. Quindi è già un bel pezzo di vita. Sì, abbiamo iniziato a lavorare in Sierra Leone e poi siamo in Sierra Leone e adesso ci siamo sposati nel Madagascar. Ma l'assurdo è che io proprio quest'anno per la prima volta sono andata nel profondo sud del Madagascar, dove lì la povertà è assoluta. Noi abbiamo fatto anche la fabbrica del cioccolato a Nosicomba, ma io non ci sono stata perché so anche da Piero che il nord è molto turistico e Nosicomba tutto sommato c'è la povertà, ma c'è anche il turismo con dei resort a 5 stelle. Ancora non ho visto la fabbrica del cioccolato che abbiamo costruito perché mi piaceva vedere i progetti che abbiamo fatto, dei progetti un po' strani come quello di aiutare delle donne. Abbiamo aiutato 33 donne di cui 7 analfabete e abbiamo dato il microcredito. Abbiamo dato all'inizio 20 euro che per noi non sono niente, ma per loro gli ha permesso di comprare delle cose, del materiale per creare cappelli, per creare borse, la coltivazione del pepe, le risaie, la coltivazione di ananas. Per noi questo era un progetto che io volevo vedere veramente la realtà perché abbiamo mandato i finanziamenti senza fidandoci di una suora, ma senza renderci conto realmente come era la situazione. Abbiamo capito che Tecla Hollus adotta questo light motive, cioè di aiutarli a casa loro, ma non perché credo sia la strada più giusta e più corretta. Quindi questo microcredito di cui parlava Gabriella forse potrebbe essere una strada. Però mi sembra di capire che l'emergenza più importante, purtroppo ancora oggi, siamo ormai nel 2018, è la fame. Quindi è proprio un cazzotto nello stomaco a tutti gli effetti, anche solo pensarlo, però è così. Sì, lì ci sono appunto delle zone dove magari è meno sentita perché le zone più vicine al mare dove c'è un po' di pesca e poi c'è più vegetazione, quindi ci sono i frutti magari. Però nell'interno effettivamente ci sono dei villaggi che io certe volte ho domandato, ho chiesto e ho detto ma com'è possibile che questi ancora stanno qui, no? Magari non vanno e di solito abbiamo visto che mandano i figlioli, le figliole a cercare di trovare fortuna. E quindi ecco, lì purtroppo diciamo che i governi che ci sono susseguiti hanno cercato di fare qualcosa, soprattutto con l'aiuti che ci sono stati appunto anche da parte dell'Italia, da parte dell'Europa. E quindi ecco, però tutto sommato poi la corruzione anche lì impera e quindi ecco, diciamo che c'è gente che sta bene e che magari vive sulle spalle di quest'altra povera gente che effettivamente vive in qualche modo. Diciamo che ecco, lì il turismo si svolge in questa isolona che è un'isolona, è un'isolona poi tipo l'isola d'Elba, 75 km quadrati quindi. E praticamente c'è un aeroporto internazionale, è l'isola di Nosebe, dove ci sono sempre dai 27 ai 32 gradi costantemente tutto l'anno e quindi ecco, è a nord, quindi a nord praticamente diciamo a circa 20 minuti con una barca veloce dalla Gran Terra, che loro la chiamano così perché il Madagascar lo chiamano la Gran Terra e quindi è lì ecco, diciamo che si svolge la parte turistica del Madagascar. Ora hanno cominciato anche a fare altri resort in altre parti del Madagascar, soprattutto gli italiani e i francesi, però in certi posti effettivamente esiste solo la pastorizia, esiste solo per dire proprio il niente, insomma è che il deserto, quindi ecco perché è una Gran Terra, considerate quasi tre volte l'Italia, due volte il 70 diciamo dell'Italia e quindi è una Gran Terra, quindi ci sono ecco diciamo vari paesaggi e varie possibilità di vivere. Di vivere, allora come possono diciamo gli aretini o non solo gli aretini perché poi questo sarà un contributo che magari faremo veicolare anche sul web, ormai tanto si comunica più lì che da altre parti, come possono coloro che ci stanno allora ascoltando contribuire a questi progetti? Sì, innanzitutto volevo premettere che anche quando io faccio i viaggi o chiunque di teca fa viaggi è a spese proprie, per cui tutti i soldi che vengono raccolti ad Arezzo sono soldi che vanno direttamente in Africa in questi progetti, questo è molto importante capirlo perché noi, no, la nostra associazione è trasparenza e cooperazione libera associazione per cui vogliamo veramente una trasparenza da un punto di vista economico, perché è molto importante questo. Ora si sta cambiando l'anno per cui c'è la nuova adesione all'associazione, il costo dell'adesione è di 10 Euro l'anno, per cui 10 Euro l'anno che sono tutti i soldi che vanno a finanziare i nostri progetti. Ecco, dietro di lei abbiamo visto la foto di un bimbo che è ammalato… Di un tumore purtroppo, lì si muore di polmonite, si muore di gastroenterite, si muore di malaria e il tumore se si fa una diagnosi serve a fare la diagnosi ma poi non si fa altro, perché abbiamo cercato di mandare questo bambino a Nantanarivo che è la capitale perché c'è un chirurgo, uno dei pochi chirurghi facciali ma per ora non ci siamo riusciti, forse ci riusciremo, perché veramente il problema, tu fai la diagnosi di una malattia, non c'è terapia e non ci sono neanche i medici, li stanno aspettando oculisti, stanno aspettando dentisti, la maggior parte delle persone hanno delle bocche terribili, terrificanti. Esistono molti maghi, chiamiamoli così, curatori improvvisati. Sì, praticamente sono quelli che hanno un pochino più di intelligenza e cercano di curare… da noi si potrebbe chiamare, ora immaginatelo lì, uno psicologo, quindi che vanno lì e magari gli inventa qualcosa e allora loro si sentono meglio perché si sentono magari presi in carico come si dice, quindi qualcuno… Insomma un santone, come lo possiamo immaginare… Ma anche per un altro motivo, che le prestazioni sanitarie hanno un costo, per cui tutti i poveri che vanno in ospedale per un ricovero, per prendere la medicina devono pagare e se c'è povertà non hanno i soldi neanche per pagarsi. Noi abbiamo fatto per la prima volta una schedatura che poi abbiamo inviato al Ministero della Sanità di come era, in che situazione erano gli occhi di quella gente che l'ha, infatti ci sono tantissima gente che ha 35-37 anni, ha già le cataratte, quindi abbiamo fatto tutta questa schedatura e mi sembra che in grosso modo sui 7 mila pazienti, perché in questo tempo che non sono stato abbiamo consegnato circa 25 mila occhiali e appunto questi anziani, i poverini che non avevano mai visto, una volta che sembrava che impazzissero, per dire no? Hanno capito com'era il mondo, avendo la vista un po' più sana, diciamo così. Però lì non hanno niente, per dire anche come struttura medica, per dire come strutture mediche a livello governativo, c'è questo ospedale militare di Tanà che è un ospedale importante, poi ora c'è vicino a Tanà a 150 chilometri, c'è questo ospedale che abbiamo messo in piedi proprio alla fine della mia missione con il San Raffaele, con il Dottor Sala e lì c'è un piccolo ospedale con 105 posti e quindi, però anche lì c'è stata la solita corruzione che dai dai ci hanno dato questo terreno, però è un po' lontano dai paesi, dalle città, però c'erano altre possibilità e quindi l'abbiamo fatto lì. Allora, dicevamo prima del web, Tecla Hollus ha un nuovo sito internet nel quale è possibile intanto cercare di capire che cosa fate, i vostri progetti, ma la cosa più importante è possibile donare, donare online e quindi non muovendosi dal divano di casa, comodamente con un click si può aderire a Tecla Hollus e aiutare le persone, i bambini che vedete alle nostre spalle, come si può fare? Basta collegarsi www.teclaollus.it e dentro c'è il Paypal o un bonifico, anche 10 Euro, tanti 10 Euro fanno tanti soldi e ci aiutano a mandare avanti i progetti, perché adesso dobbiamo costruire questa casa famiglia per le mamme, per i bambini, per ospitare i bambini da 0 a 3 anni affetti da malnutrizione e con piede torto, a Masoa, che è una missione vicina a Yushi, che è una cittadina più grande, però questo costo di questa casa è di 35 mila Euro e noi in questo momento abbiamo raccolto 25 mila Euro, ma noi siamo fiduciosi e speriamo che questi 10 mila Euro nell'anno 2018 riusciamo a raccogliere. Magari ci riporti anche la Befana che va bene uguale. Ci manca il tetto, ci scrive una bella letterina a Babbo Natale, ci manca il tetto, ci porti il tetto della casa. E quindi questo, quindi davvero complimenti per questo impegno. Noi direi che ci possiamo invece, Piero, prendere l'impegno con Marezzo TV di seguire questi progetti, di non rendicontare ma raccontare agli aretini. Stiamo vedendo di mettere in piedi, dopo la metà di gennaio, un'iniziativa che poi racconteremo e diremo, siamo già in contatto per dire con qualche persona che sarà così gentile da ospitarci e quindi faremo sapere tutto in modo che chi vorrà potrà venire a trovarci. Cercheremo di organizzare anche un rinfresco per quella gente che verrà a trovarci per vedere se magari viene a bere un goccino con noi e quindi magari, sai, bevi un goccino, bevi un altro goccino e poi ci lascia il decino e noi siamo contenti. Facciamo vedere il sito, eventualmente le foto dei nostri viaggi e forse possiamo ospitare una suona del Madagascar che in questo momento è a Roma per un intervento, per cui potrebbe lei veramente testimoniare la realtà che sta vivendo. Allora direi che davvero possiamo ringraziare la dottoressa Gabriella Rossi che è stata qui con noi per questo piccolo spaccato di solidarietà dagli studi di Arezzo TV, vi lasciamo con un piccolo montaggio di queste foto, le più belle insomma abbiamo scelto di questo viaggio di Gabriella, così vi raccontano ancora meglio. Vedete quanto sono belli questi bambini. Esatto, questi bambini e vi ricordiamo che potete donare, donare, donare. Grazie Gabriella, grazie Piero, ci vediamo per le nostre cose. Grazie a tutti i sostenitori di Tecla perché ci vediamo quasi subito. Abbiamo già diversi sostenitori di Tecla che da diversi anni continuano ogni anno a donare, perché grazie a loro che abbiamo costruito questi progetti. Benissimo, alla prossima, arrivederci e buon Natale. Buon Natale, certo.